Il ruolo chiave delle donne nella resistenza iraniana è stato questo l'argomento analizzato e discusso nel convegno promosso e organizzato dall'Associazione per il Tibet in collaborazione con la Consulta Torinese e l'Associazione Iran Libero e Democratico. A Palazzo Raskaris sono intervenuti diversi esuri, i rappresentanti di Amnesty International e del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Un congresso importantissimo che ha centrato due elementi. L'importanza della democrazia in Iran per la pace in tutto il Medio Oriente e il rispetto fondamentale dei diritti delle donne, quale precondizione necessaria perché tutti i diritti umani siano compiutamente rispettati. Il regime iraniano tiene sotto il tiro le donne iraniane e nonostante tutto questo loro continuano a combattere contro questo regime e nella battaglia contro questo regime hanno un ruolo molto importante e sono sempre nella prima fila. Vorrei parlare delle donne della resistenza iraniana, che è Presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana e signora Amalia Merajavi. 75 dei membri di questo Consiglio sono le donne. Vorrei parlare dell'organizzazione del Mujahedin del Popolo, dove il 52% delle donne hanno dei ruoli molto importanti e determinanti.